Situazione tranquilla all'aeroporto d'Abruzzo, mentre in altiscali italiani ed europei regna il caos a causa della carenza di personale degli scioperi che stanno creando forti disagi e stanno mettendo a rischio le vacanze di milioni di persone. Vittorio Catone, presidente della Saga, la società che gestisce i servizi aeroportuali, conferma che a giugno c'è stato un incremento di passeggeri pari al 14,7% rispetto agli anni precedenti. Lo Scala Bruzzese al momento non sembra risentire degli effetti degli scioperi e non si registrano particolari criticità neppure per i voli di Ryanair, che è la compagnia low cost presente con il maggior numero di voli e che altrove sta risentendo degli stop dovuti alle iniziative di protesta dei suoi dipendenti. Ryanair opera in tutta Europa, noi in questo momento non abbiamo avuto grandi problematiche e di conseguenza anche Ryanair fino ad oggi ha cancellato esclusivamente due voli dovuti ai ritardi di altri scali, per cui non vede in Abruzzo Airport una difficoltà e una criticità, ma sicuramente lavora quotidianamente per garantire tutti i servizi possibili e immaginabili al passeggero. E l'incremento del numero dei passeggeri testimonia che abbiamo scelto le rotte giuste, evidenzia il presidente Catone. Ci sono delle destinazioni, delle rotte che vanno un po' meno, ma in gran parte sono quasi tutte rotte che funzionano e che hanno un ampio coefficiente di riempimento da parte dei passeggeri. Questo ha significato che c'è voglia, questo ha significato che i servizi di Abruzzo Airport vi sono e questo ha significato che anche le destinazioni individuate probabilmente erano quelle giuste. Intanto, in caso di necessità, l'Associazione Codici, poiché lo scorso weekend numerosi passeggeri sono rimasti a terra in diversi aeroporti italiani e oltre 100 voli hanno subito ritardi o cancellazioni, e a disposizione con i propri esperti per fornire assistenza attraverso il numero telefonico 06 55 71 996 oppure con l'email segreteria.sportello-codici.org